Arco ha accolto oggi più di 80 artisti che hanno esposto le loro opere per le vie caratteristiche del Rione Stranforio, in occasione della 46esima edizione del Premio Segantini, organizzato dal Comune di Arco in collaborazione con il Comitato San Bernardino. Nel tardo pomeriggio si è svolta la consegna degli otto premi acquisto, secondo la classifica stilata da una qualificata giuria di esperti. Abbiamo intervistato Vilma Remondini e il Presidente del Comitato San Bernardino Egidio Carmellini. Voi del Comitato San Bernardino è dal 1966 che curate questa rassegna del Premio Segantini, oggi è la giornata clou, come si svolgerà la giornata? Allora adesso, tra un momentino, facciamo l'apertura dei lavori. Io in rappresentanza del Comitato abbiamo il nostro Presidente, ma si dedica alla cucina per dare l'accoglienza a tutti gli espositori e gli accompagnatori, quindi faccio un po' il portavoce. Farò l'apertura dei lavori alle 10. Inauguriamo qui in piazzetta tutti insieme e poi a mezzogiorno, luna, ci troviamo chi vuole a consumare un piccolo pasto insieme, giù nella nostra sede del Comitato San Bernardino. Il Comitato partecipa sempre con onore, è un onore per noi essere qui sulla nostra strada di via Stranfor con questa rassegna magnifica che è la 46esima, quindi per noi oltre che un piacere è proprio un onore collaborare anche con l'amministrazione comunale in questo senso. Quindi tutto il giorno oggi siamo qui, ci sarà poi la giuria che esprime il suo giudizio, il pomeriggio radunata nella nostra sede del San Bernardino del Comitato dà il suo giudizio e alle 5 facciamo poi la premiazione alla presenza delle autorità comunali e con il nostro piacere e con la nostra presenza. Quanti partecipanti ha quest'anno la rassegna? Sono già un'ottantina, può darsi che si aggiunga ancora qualcuno, dato il tempo di ieri è inaspettata anche questa partecipazione, quindi con due o tre quadri ciascuno abbiamo qui un bel numero di quadri. Quale sarà il prossimo appuntamento del Comitato San Bernardino? Sì, noi in programmia, adesso abbiamo il 7 giugno, facciamo il pranzo dei Stranforini che è arrivato alla sua seconda edizione, l'anno scorso abbiamo avuto circa 210 invitati, quest'anno pensiamo di arrivare a 2,60 e penso che sarà una bella festa. Sono tutti invitati gli abitanti del Rione, gli ex abitanti del Rione, nati e residenti e speriamo che sia una bella festa. Grazie a tutti.